Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Cresce l'attesa in Serie C per conoscere la composizione dei gironi e dei calendari che avverrà lunedì. Il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi, mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato successivamente. I gironi saranno suddivisi con criteri di latitudine. L'Ancona finirà appunto nel B, probabilmente insieme alle Liguri Virtus Entella e Sestri Levante, alle Toscane Arezzo, Carrarese, Lucchese e Pontedera, alle Emiliano Romagnole Spalce, Sene e Rimini, alle Sarde, Olbia e Torres, alle Marchigiane Vispesa, Rorecanatese e Fermana, oltre alle Umbre Perugia e Gubbio, le Abruzzesi Pineto e Pescara, più una tra Juventus Next Generation e Atalanta Under 23. Niente di certo però, l'ufficialità arriverà lunedì. Intanto l'Ancona continua ad allenarsi in vista del test fissato per domenica alle 17.30 contro il Ravenna. In gruppo c'è Antonio Cioffi, l'attaccante gioiellino del Napoli, classe 2002, che attende ancora la firma del patron partenopeo De Laurentiis per potersi tesserare in prestito con l'Ancona per la stagione alle porte. Il giocatore, che da pochi giorni si sta allenando con i compagni, sta già mettendo in mostra le sue qualità e dimostrando perché il DS Ciccio Micciola lo abbia assolutamente voluto in casa d'Orica per sostituire l'uscita di Di Massimo. L'inventiva di due trequartisti napoletani con energia a destra a sfruttare il suo piede mancino alle spalle della solidità e della fisicità di Spagnoli al centro dell'attacco. Così è stato pensato appunto il reparto offensivo, con Moretti e Petrella pronti a subentrare e dunque la società attende con ansia di poter mettere nero su bianco il tesseramento di Cioffi, che potrebbe poi sbloccare la trattativa del terzino destro esterno di centrocampo e in questo caso sarebbe favorito Federico Valietti, classe 99 del Genoa, attualmente in prestito al Vicenza. Quest'ultimo risulta essere il profilo adatto per rispondere alle caratteristiche tecniche fortemente cercate dal DS. Quanto a Moretti, l'Ancona vuole tenerlo con sé, difficile quindi che il Terramano possa approdare in D alla nuova San Benedetto Calcio.